qui abbiamo l'ultima nata della famiglia Audi Sport la RS4 non occorre dire altro basta guardarla per capire l'aggressività ma soprattutto quello che a me colpisce di più è proprio la perfezione nei dettagli piccoli particolari che proprio fanno la differenza rispetto alla vettura da cui da cui nasce questi piccoli particolari in carbonio l'estrattore in carbonio la presa d'aria lo sfogo del del passaruota posteriore allargato rispetto alla vettura di serie fanno sì che questa macchina dal punto di vista del dell'aggressività sia unica nel suo genere anche il fatto adesso di essere passati a un motore molto più piccolo di cilindrata quindi 2.9 turbo rispetto il 4.2 della versione precedente ha fatto sì di ridurre sicuramente i pesi e aumentare l'agilità della vettura e come tutte le Audi ad alte prestazioni nonostante i cavalli la potenza e l'aggressività dal punto di vista estetico una macchina che si guida in modo molto facile e ti permette di raggiungere limiti molto molto alti ma con una semplicità unica rispetto alle vetture della concorrenza quindi come tutti i modelli RS questo diventerà nel futuro di nuovo un'icona della della casa di Ingolstadt grazie Grazie a tutti.